Seconda intervista della serata siamo con Daniele Maffione che tra un po' interverrà al dibattito, al primo dei tre dibattiti sul ventennale di Genova che facciamo al festival di Sherwood. Daniele sei il curatore del libro da Seattle a Genova, la cronistoria del Movimento No Global, come nasce questo libro che poi è diviso in tre parti, ne parleremo bene dopo e quali sono gli obiettivi? Intanto buonasera a tutti e a tutti, l'obiettivo del libro era quello di cercare di dare un contributo alla ricostruzione del Movimento No Global e soprattutto alla sua capillarità e estensione geografica. Nel libro abbiamo cercato di ricostruire una sorta di ponte temporale che andava dalle origini del Movimento No Global, quindi da Seattle e arrivare a Genova, anche se poi sappiamo che quel movimento è andato ben oltre anche Genova. Ci sono state una serie di tappe forzate che ne hanno segnato anche le caratteristiche e le peculiarità in Italia. Noi abbiamo cercato in un qualche modo all'interno di questa narrazione di raccontare l'esperienza di Napoli e quindi della rete No Global e quindi parlando anche del ciò che precedette il G8 di Genova e quindi nello specifico le mobilitazioni del marzo 2001, dove in effetti si sperimentarono, adesso detta così in breve, le strategie del dissenso da una parte e dall'altra le strategie di repressione. Tra l'altro il libro si divide in tre parti, la prima parte, adesso entriamo un po' nel merito, è proprio sull'incubazione del G8, Napoli come incubazione del G8, però io direi da due punti di vista, sicuramente dal punto di vista della piazza, delle tecniche di piazza, della repressione, ma anche dal punto di vista non solo dei contenuti, perché comunque Napoli precede Genova di pochi mesi, ma anche di quel tessuto di movimento che poi, come dicevi bene, non si ferma a Genova. In realtà il libro è strutturato in cinque sezioni, mi spiego meglio, per rappresentare questa roba qui avevamo la necessità di non dare voce ad una persona, ma di darne a tantissime persone molto diverse, molto eterogenee fra loro, che rappresentavano la complessità di quel movimento, perciò all'interno del libro c'è dal militante classico, dall'attivista dei centri sociali, passando per il preteno global, in questo caso ci sono dei racconti inediti di Don Vitaliano della Sala, passando anche per esperienze dei meet-up, dei 5 Stelle, che poi in parte hanno ereditato comunque il gergo sulla prima fase antiglobalizzazione, ma poi andando molto oltre. Cinque sezioni suddivise in questo modo, per cercare di dare anche un'idea della variegatura dei linguaggi, noi abbiamo scelto una stilistica molto complessa, nel senso abbiamo utilizzato un linguaggio narrativo, in questo caso c'è un racconto inedito di Francesco Festa, che è un ricercatore, uno studioso, che apre il libro, tra l'altro, ed è un racconto bellissimo, che serve ad introdurre ciò che precedette Napoli, quindi a descrivere il clima dei mesi che precedettero quelle mobilitazioni che non furono solo italiane, ma si va da Praga, passando per Davos, Nizza, nel nostro caso Ventimiglia, perché poi in un qualche modo venne ripristinato il trattato di Schengen, venne impedito agli attivisti italiani di andare dall'altra parte in Francia. Dopo il racconto di Francesco, che comunque ha una strutturazione molto articolata, nel senso che lui presenta quattro personaggi che sono molto diversi fra loro, in effetti si confrontano all'interno comunque di questo alveo di movimento, c'è da un fotoreporter, c'è un pastore del Vesuviano, poi c'è una giovane attivista, e infine c'è un'ispettrice della Digos che vive il conflitto di avere all'interno della propria famiglia un giovanissimo attivista no global, quindi il racconto per me da solo meriterebbe comunque già tanto. Dopo abbiamo preferito, diciamo questa nella sezione successiva, di concentrarci sulla cronistoria della rete no global, quindi spiegandone anche la composizione, l'origine di classe, le pratiche, le azioni, eccetera. Poi abbiamo scelto di dare voce a tutte e a tutti, e quindi in effetti c'è un fitto corredo di interviste che vanno a completare questa parte. Le ultime due parti, le ultime due sezioni, sono poi completate da una parte di documenti e infine comunque un archivio visivo, fotografico, a cui hanno contribuito Luciano Ferrara, e poi il vignettistico, iconografico, che è quello curato da un compagno che si chiama Massimo Di Dato. E' importante il punto di vista da sud di un movimento globale, anche perché il sud, questo poi è un tema che approfondiremo nel dibattito, il sud storicamente è questo ibrido, questo ponte tra le esperienze europee che già vivevano, erano strutturate negli anni 90, sono esperienze di movimento già forti, e invece un'area mediterranea che poi vedremo esploderà una decina d'anni dopo. Perché voi vi siete concentrati tanto sulle biografie, sulle esperienze politiche del sud, che ha dato un contributo importante al movimento no global in generale. Certo, nel libro una delle testimonianze, anzi due testimonianze, ricostruiscono anche un po' il tentativo, diciamo dopo il marzo napoletano, di costruire una rete del sud dei ribelli, che poi, come viene raccontato, diciamo subirà una vera e propria inquisizione giudiziaria caduta nel nulla. Addirittura venne in un qualche modo architettato un teorema, il teorema Ganser, che era un generale dell'arma dei carabinieri, per perseguitare gli attivisti no global. Quell'inchiesta, prima di essere presentata e accolta dal tribunale di Cosenza, in questo caso, dove c'era un movimento molto forte, molto radicato, fece il giro di 23 procure, come raccontò un magistrato all'interno dell'opera, raccogliendo il rifiuto, comunque, nel voler, diciamo, estendere le ricerche delle indagini. Quando comunque la procura di Cosenza, per una serie di ragioni che non sto qui a dire, accettò, accolse, diciamo, l'intento di andare a fare un processo ad attivisti no global, fra cui Luca Casarini, ricordo, perché fra i vari leader della rete del sud dei ribelli o degli ispiratori materiali che avevano in un qualche modo sollecitato questo percorso, che in realtà voleva essere uno spezzone meridionale, verso Genova, nella piazza di Genova, in effetti, dopo Genova, partirono comunque una serie di processi, fra cui questo, che fu molto curioso, anche nella sua architettura, perché in effetti si andò, in qualche modo, a cercare di costruire il teorema secondo il quale gli attivisti ispiratori di questa rete del sud dei ribelli avevano costituito un'associazione sovversiva, volta a destabilizzare le istituzioni democratiche e, diciamo, l'ordine costituito, in particolare nella piazza genovese. Però il libro dice anche molto altro, nel senso che l'aspetto repressivo noi l'abbiamo volutamente, ne abbiamo parlato, l'abbiamo documentato, l'abbiamo ricostruito attraverso i faldoni giudiziari, addirittura, diciamo, in particolare c'è una postilla. Riguardo Bolzaneto, prima della caserma Bolzaneto c'era stata la caserma Raniero a Napoli, dove sono stati torturati 85 manifestanti, massacrati di botte nella sala benessere locale. Un episodio poco conosciuto, ma in realtà è stato importante, perché noi, per esempio, c'è questo ponte che ci lega. Fino a poco prima della manifestazione di Napoli, noi avevamo, in un qualche modo, dovuto affronteggiare la Digos locale. Noi, nella piazza del 17 marzo 2001, ci siamo trovati a gestire l'ordine pubblico, la Celere di Padova, che si era allenata per vent'anni a spezzare le ossa, gli ultras di mezza Italia. Quindi, come dire, che il messaggio che si stava lanciando nella piazza napoletana era statevene a casa, perché se scendete in piazza le prendete. E tantissimi di quelli che vennero rastrellati, non solo in piazza, ma dopo in ospedale, e dall'ospedale tradotti nella caserma per essere torturati, o comunque subire omiliazioni, maltrattamenti, vessazioni, eccetera, ne scaturi comunque un'inchiesta giudiziaria, ma questa inchiesta giudiziaria è stata paradossale, perché in effetti si è conclusa 12 anni dopo con una sorta di risultato controverso, nel senso che, morale è la favola, sono stati condannati funzionari di polizia di Stato, però tutti quanti i reati loro contestati, in particolare l'abuso di potere, sono caduti in prescrizione. Quindi abbiamo scelto volutamente, però, di raccontare della bellezza, della potenza e della creatività di quel movimento, perché ci sembrava più opportuno non cadere nel solito, diciamo, vortice, violenza, non violenza, repressione, non repressione, bensì dire che le ragioni di quel movimento stanno ancora in piedi. E infatti una delle cose che è stata spesso ripetuta in questi anni è avevamo ragione noi, io direi abbiamo ragione noi, tanto è vero che il movimento non finisce a Genova. E a proposito di questo, l'eredità di questo grande movimento, ma direi questo fermento importante che c'è in Italia, c'è in tutto il mondo, c'è al sud, ricordiamo, l'episodio di Scanzano, Ionico, dopo pochi mesi, da un annetto circa da Genova, è tra l'altro una delle più grandi lotte popolari che ha vinto, ha portato a casa un risultato. Questa eredità come si dipana negli anni successivi e chi la sta raccogliendo oggi? Ma noi abbiamo volutamente titolato una delle sezioni del libro Sud e anticapitalismo per documentare la carsicità dei movimenti e dei conflitti sociali in questa parte del paese, ma poi in realtà in tutti i sud del mondo. Il discorso per me dell'eredità viene anche da un rigoroso bilancio politico, nel senso che io per esempio in questo sono convinto che il discorso del capitalismo, del neoliberismo, della globalizzazione non possiamo risolverla con una manifestazione, per quanto bella, partecipata, anche conflittuale, ma deve essere necessariamente dipanata con la costruzione di un movimento che penetri ovunque e che soprattutto produca una cultura, una cultura di massa, che è fondamentale, una cultura di massa antagonista, lo vediamo anche in questi giorni. C'è una riflessione che secondo me è drammaticamente in dialogo con il discorso dell'eredità del movimento. Durante la pandemia stiamo uscendo tutti quanti da un anno e mezzo di pandemia, che poi non si sa se ne stiamo uscendo, se ci stiamo rientrando, se ne usciremo fra tempo. Però c'è un discorso, secondo le stime di Forbes, che è una delle riviste finanziarie più lette comunque nel mondo, i ricchi nel mondo sfiorano le 3.000 unità. Cioè ci sono 3.000 super ricchi nel mondo e addirittura si stima che rispetto all'anno scorso sono 300 in più. Questa cosa avviene perché diciamo l'e-commerce si è sviluppato all'inverosimile, si vendono monete tipo il bitcoin, e quindi in un qualche modo si entra in circuiti della finanziarizzazione dell'economia e naturalmente poi il grosso dello sfruttamento viene comunque da profitti derivanti dal lavoro, dalla mercificazione comunque dei corpi e allo stesso tempo anche dalla devastazione ambientale. Quindi quel movimento aveva ragione, ma sembra un paradosso che oggi che le ingiustizie sono così palesi, noi ci ritroviamo. Mario Draghi, che è sempre stato, oltre ad essere un massone, ce lo ritroviamo, uomo dei poteri forti, al vertice di questo paese senza un movimento di massa che ne contesti l'autorità. E questo perché secondo me in quel movimento c'erano delle ragioni che in un qualche modo dovremmo comprendere, che non hanno fatto in tempo a sedimentare una vera e propria cultura antagonista, non sono diventate un vero e proprio stile di musica. Io faccio riferimento molto all'esperienza degli afrodiscendenti negli Stati Uniti d'America. Se voi guardate la cultura hip hop in un qualche modo anche nel background che è intrisa di significati politici, culturali, ma soprattutto comunque c'è una cultura del movimento, della corporeità, della musica, della letteratura che è radicale. Poi si perde in alcuni filoni commerciali, ma in effetti è testimonianza di una lotta, di un antagonismo che c'è con il potere in particolare suprematista bianco. Qui in Italia il movimento no global non è riuscito a sviluppare una roba del genere, però ha sedimentato dei processi che secondo me sono carsici e secondo me ancora oggi si esplicano per esempio nelle lotte a me viene in mente un compagno che è Edoardo Sorge cui io tengo a dare la mia solidarietà perché è uno dei portavoce del sindacato Sicobas e portavoce del movimento dei disoccupati 7 novembre è stato perseguitato e informato dai suoi legali non ha ricevuto neanche una notifica direttamente dagli inquirenti per associazione a delinquere e questa cosa va detta perché naturalmente Edoardo Eddi lo chiamiamo noi è un compagno che per esempio è andato a Piacenza a fare i picchetti come sappiamo quello che è caduto è andato a Novara ha girato tutto il paese quindi pensiamo che dietro questo ci sia ben altro ci sia anche lì la logica del manganello e questa cosa noi non la possiamo accettare i manganelli si possono spezzare le idee non si possono e non si devono piegare va bene grazie mille a Daniele ovviamente ci associamo anche noi chiedendo assolutamente giustizia rispetto a a Eddi e rispetto a tutte le persone che comunque stanno continuano ad avere guai giudiziari tra l'altro io sono quando mi parlano di fallimenti ne abbiamo avuti diversi in questi anni di operazioni della magistratura è sempre comunque una cosa estremamente positiva però purtroppo sappiamo che si persevera sempre grazie Daniele ci vediamo tra un po' per il dibattito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti